E in arrivo il primo treno elettrico e sostenibile delle ferrovie sud-est sui binari completamente rinnovati della linea Bari-Putiniano via Casa Massima. Sarà in circolazione a metà settembre con l'inizio dell'orario invernale. Il convoglio è lungo 59 metri, composto di tre moduli, può viaggiare ad una velocità di 120 km orari e fa parte della flotta degli ETR. Il treno è stato progettato secondo i moderni standard di sicurezza, comfort e accessibilità. Conta 175 posti a sedere, comprese due postazioni per viaggiatori a ridotta mobilità, quattro spazi portabici, una toilette e scaffali per bagagli di grandi dimensioni. Tra i servizi a bordo vi sono display luminosi interni per le informazioni a LED, pedane mobili per l'accesso di persone a ridotta mobilità, impianto di videosorveglianza, climatizzazione e sonorizzazione. Le prime corse in preparazione al servizio commerciale saranno avviate a metà giugno. Soddisfatto del risultato raggiunto si è detto Luigi Lenci, amministratore delegato delle ferrovie sud-est. Un treno capace di rispondere alle esigenze degli utenti, dei nostri clienti, dei pendolari che per lungo tempo hanno sofferto per questa carenza di mezzi di trasporto adeguati. Noi apriamo una fase completamente nuova perché la flotta dei treni sarà centrata sui treni elettrici e quindi sulla parte della nostra rete che già è attrezzata con l'elettrificazione che abbiamo ripristinato. Stiamo definendo l'acquisto di altri 13 treni di questa serie per poter arrivare quindi ad una flotta di 18 treni elettrici che daranno un'impronta determinante al cambiamento dell'attività e quindi della qualità dei servizi di FSE. La stessa tratta Bari-Putignano via Casa Massima sarà anche attrezzato entro il prossimo anno con il sistema di controllo marcia-treno e saranno completamente automatizzate 17 passaggi a livello. L'upground tecnologico consentirà di superare il limite di velocità di 50 km orari riducendo del 40% gli attuali tempi di viaggio. L'investimento complessivo per il rinnovo della flotta ammonta a 70 milioni di euro e fa parte di un percorso di rinnovamento della mobilità. Il sud-est ha un patrimonio di un portafoglio di 700 milioni di euro che saranno investiti per la messa in sicurezza dell'intera rete di 471 km e quindi la messa in sicurezza degli interi percorsi di sud-est. In Salento stiamo procedendo all'elettrificazione della linea Martina-Franca-Lecce-Zollino-Gagliano del Capo, mentre sul versante ionico stiamo procedendo alla realizzazione dell'elettrificazione della rete Bari-Taranto.